Cari studentesse e cari studenti delle scuole superiori, mi chiamo Francesco Frati e sono il Rettore dell'Università di Siena. Oggi vorrei rivolgermi a voi che a breve inizierete il vostro percorso universitario e che forse state pensando alla strada migliore da intraprendere. Vorrei dirvi che i vent'anni sono davvero preziosi perché sono il periodo dei grandi ideali, quello dei sogni ambiziosi e dei progetti non ancora concreti. Non credete a chi tenterà di sminuire il vostro percorso o vi dirà che l'università è una passeggiata. Vi chiederete più di una volta se avete fatto la scelta giusta e vivrete anche momenti di sconforto. Mi piace davvero quello che faccio? Mi porterà ad un lavoro che mi farà sentire realizzato? Tuttavia i vent'anni sono una bellissima rotta in mare aperto da vivere a ve le spiegate. Amicizie, amori, speranze, difficoltà, crescita, praticamente tutto. Per questo dovrete imparare a scegliere, a prendere qualcosa e a lasciare qualcos'altro, decidendo cosa merita tempo e sforzi e che cosa no. Seguite il vostro sentire, ascoltate i vostri bisogni e non scegliete mai in base ai parametri o alle aspettative degli altri. Non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili e di sbagliare perché avrete il tempo e la possibilità di rimediare agli errori. Siate entusiasti e orgogliosi dei vostri progetti senza dar credito a chi vi fa intendere che non è cool impegnarsi davvero per qualcosa e crederci fino in fondo. Siate coraggiosi, credete nei vostri sogni e soprattutto siate voi stessi, sempre. L'Università di Siena saprà accompagnarvi e sostenervi in questo splendido viaggio.